Ospite della diretta di ieri su Cilento Channel, Antonio Manzo, direttore dello storico quotidiano alla città di Salerno da gennaio 2018, che ha intervenuto su varie questioni riguardanti la situazione emergenziale che stiamo affrontando in Campania, a partire dalla vicenda ospedale di Agropoli fino alla prossima fase 2. Sul nosocomio agropolese Manzo svela un retroscena sull'artefice della progettazione dei lavori. Intorno all'ospedale di Agropoli si è consumata una bella pagina di organizzazione dell'Asla Salerno, con il fondamentale contributo tecnico di un funzionario che ha messo faccia e firma sotto una scadenza dei lavori ampiamente rispettata. Una bella sfida vinta dall'architetto Maurizio Pilerci, il quale era un precario ed è stato stabilizzato solo in questi giorni. Poi l'Asla dovrà decidere quale destino dare ad una struttura ormai completata. Il direttore della città poi si dichiara ottimista sulla situazione dell'emergenza in campagna, parlando della data del 9 maggio, riportata da vari studi come il giorno in cui nella regione si raggiungerà quota zero contagi. Però invita a seguire la strada della calma. Paradossalmente penso sia meglio uscirne dopo, sottolinea Manzo, piuttosto che uscirne prima e scontare un dopo ancora più emergenziale. So che la gente soffre con queste misure restrittive, ma il distanziamento sociale ha dato i suoi frutti. Invece sulle riaperture di librerie, cartolerie e attività legate al cibo d'asporto previste dalla regione dal 27 aprile in vista della fase 2, Antonio Manzo parla di una focalizzazione sul vero problema. È un'ottima scelta rimettere in circuito librerie e cartolerie, ma la storia del cibo d'asporto non mi sembra un punto centrale. Il problema vero è che l'emergenza è qualcosa di indefinibile e che non ha paragoni nella storia con un killer invisibile che può colpire chiunque. Stiamo assistendo ad una pandemia mondiale che sconvolgerà tutto. La fase 2 non è la liberalizzazione del comportamento sociale, ma è il ripartire, rimettere in moto lavoratori, fabbriche ed economia. Penso soprattutto ai nuovi poveri, coloro che hanno perso il lavoro o chi non percepisce più un reddito da mesi. Sono questi i veri problemi da fronteggiare.